No, ma io non li ho for subito 30 Vediamo se è qualcuno che conosco Eh, non leggo quello dietro Ti avrei paura che questi si mettono a uscire il fucile No, non dica così, eh Buonasera, buonasera Buonasera, 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 come sta? Tutto bene, tutto bene, mi sta chiamando qualcuno, scusatemi Pronti? Buonasera, buonasera Buonasera, piacere, io sono Manuel Piacere, mi presento Jonas Piacere, piacere, piacere Piacere, piacere Quattro Eh, non so se li ha già anticipato il signor, il signor ciao No, perché non c'ero io in quale io prima Dobbiamo fare un incontro, Thomas, ma non so nulla in quale io Ok, guardi, prima ho visto anche un ragazzo al cancello E appunto gli ho chiesto se potevamo parlare Se potevo parlare con il proprietario della casa Sì, sì, sono tutti amici miei Non vi preoccupate Ah, sì, in realtà gli ho già anche accennato un qualcosa, ragazzo Non so se vi ha accennato? No, perché io sono appena arrivato con l'elicottero Quindi non mi hanno detto nulla Ok, vi spiego Allora, io sarei, ve lo dico onestamente Sarei interessato all'acquisto di questo immobile Ok E vi spiego anche il perché Perché tempo fa, ma si parla di molti anni fa Ci viveva qui mio zio Vivevo per un periodo anche vissuto con lui In questa casa Ok E mi piacerebbe riacquistarla Adesso sono tornato da poco in città E ho visto che comunque è stata Immaginato sia stata acquistata anche da altre persone E sono venuto qui appunto per farvi un'offerta Eh, una bella villa del genere come ci si fa a rinunciare Quando ho visto questa bella villa l'ho acquistata subito Eh, immagino Però di belle ville è piena la città Ah, certo, certo Questo lo sa anche lei Il problema è che da parte mia le dico che sono legato sentimentalmente A questa casa Quindi non mi interessa tanto la villa di per sé Capito? Perché di ville ne è pieno Io non so quanto l'avete pagata voi Più di quanto avrei voluto pagare Mi dica, mi butti giù un prezzo Eh, non mi ricordo Si parlava di Parecchi milioni Ok, se mi dovessi dire Fatemi un'offerta E lei che deve farmi un'offerta Se ci tiene avrà il giusto prezzo Mi faccia una base di partenza Sapendo lei quanto l'ha pagata E quanto è disposto a venderla Allora, parliamo della parte vendita Sì Diciamo che mi prende in preparato Perché dovrei cercare un'altra casa Ah beh, sì Quindi dovrei parlare con una Immagino che è pieno di Sì, vero, vero Di ville soprattutto Due gordoni Non lo so 15 milioni di dollari Come le sembrano? Un po' pochetto Rispetto a quello che l'ho pagata io Eh, infatti io per questo le sto chiedendo E poi mi ci sono affezionato alla casa Mi dica lei quanto l'ha pagata E quanto è disposto L'ho pagata 28 milioni questa casa 28 milioni? Eh, sì Ha detto che c'era marmo di prestigio Marmo italiano Sì Questa roba di prima scelta E come farne a meno? Ma che cazzo Eh, 28 milioni è una bella cifra Eh, sì Ho fatto un grosso investimento sulla casa Ma magari 25 milioni alla sua auto Li accetterei anche 25 milioni alla mia auto? Mm 30? E non ne parliamo più? Eh, ma ci devo riflettere Ci devo riflettere La mia auto effettivamente Eh, le posso dire che è un pezzo Un pezzo pregiato della mia collezione Eh, e non ce ne sono tante Perché è proprio Un'auto limitata Mm Eh, ma a me piace Eh Si potrebbe parlare anche Appunto di un conguaglio anche con la macchina Mm 25 con la mia macchina Ma cos'è? No, Gervasio! Mi ha preso l'astrovvista Mi ha preso Su due piedi Io non decido mai su due piedi No, assolutamente Ma poi non è una scelta che va Che va fatta su due piedi È una scelta importante Ma raga, la macchina me la richivo Che cazzo Che cosa mi scusi? Mi hanno sempre insegnato Che la fretta è una cattiva consigliera Assolutamente Assolutamente Comunque Ci pensi bene L'offerta 25 milioni Più quest'auto L'auto le ripeto Non so Secondo me In città non l'ha mai vista Un'auto di questo tipo È una Koenigsegg originale È una Koenigsegg reggera Ho visto che è un'auto importata Molto bella Se vuole ci andiamo anche a fare un giro dopo Così magari le stuzzica ancora un po' di più Sì Magari si può fare Ma Le dico Ci devo pensare un po' Nel senso Per ora declino l'offerta Perché Vabbè anche perché non avremmo Firmato così Su due piedi Ebbè certo È una somma anche molto importante Per me Però Sa cos'è che trovare una Una casa in collina così È complicato Non ce ne sono molte Mi piace la collina Dove si vede il mare Signor Ciao Sono sicuro che lei Riuscirà a trovare una bella casa Una villa Al ragazzo qui Eh Dovele vedere Se non è Dovele vedere proprio bolle Secondo me Guardi Non sarà neanche troppo un problema Ma se ci andiamo a fare un giro Secondo me Qualche casa Riesce già ad adocchiarla Eh Eh sì Ma non è più questa Io che più che altro Che il marmo di Callala Vabbè Il marmo di Callala Io le farei un'altra domanda Le farei un'altra domanda Lei mi ha detto Che era di un suo familiare La casa no? Sì E ci teneva tanto Presumo Di un mio zio Era Sì Ci teneva tanto Eh Sì Ma intende allo zio O alla casa Allo zio Sì E quindi Di conseguenza Teneva anche alla casa Ma più che altro Per ricordi Esatto In fin dei conti La mia domanda è questa Lei quanto sarebbe disposto A pagare Per i sentimenti? E le sto dicendo 25 milioni di dollari Non sono No Non parliamo Di queste cifre Per la casa La casa Già sappiamo il valore Mettiamo un Un aggiuntivo Per i sentimenti Lei quanto sarebbe disposto A pagare Per i suoi sentimenti? Per i miei sentimenti? Cioè Mi scusi Nel senso Io ho questi 25 milioni Ce li metto anche Per i miei sentimenti E comunque Le sto dando anche Una Quelli sono il valore Della casa Ma lei Lei conti Che appena mi ha chiesto La mia auto Nonostante io sia Molto Legato a questa macchina Ho aspettato mesi Per riceverla Perché Auto di questo tipo Sono limitate Ce l'ho da pochi giorni Sono comunque Disponibile A cedergliela E penso che questo Già Voglia dire tanto Sì Mi piacerebbe avere Questa casa Che pagherebbe La cifra che abbiamo detto Vale a dire 25 milioni Più la sua bellissima Nuova auto E nel caso Andatevi a piedi? No Ma non penso Che vi lasciamo Adesso la macchina Se vuole la casa Per me va bene Io volendo Possiamo Possiamo anche fare Tutta la mia dei soldi Io le lascio la casa Firmiamo i documenti Che ci sono da firmare Sì Li facciamo timbrare Da chi di dover E la casa è sua Compresa la macchina ovviamente Assolutamente Sì Non vuole farselo Un giro però Con la macchina prima No La prendo a scatola chiusa Addirittura Si vede che è nuova Sì sì No ma Si fidi di me Un giro Converrebbe farlo No Mi piace a scatola chiusa Lei che ne dice? Mi dica un po' Signore Questa macchina È se la helio Invece pensi che il prezzo della casa è sacongruo o è troppo poco? Ma signore Queste case qua Diciamo che È Gervasio Adesso devo capire Con andamento di mercato Io prima avevo detto Signore Con andamento di mercato Analisi di mercato Adesso che i prezzi stanno salendo Sarebbe quotato sì Sui Sui 33 milioni Però la macchina Penso che 8 milioni li costi No? Li valga È una macchina Sì È una macchina unica Da quello che sono Quindi diciamo che Ci andrà ai pari Sto lasciando i sentimenti Ovviamente Lei signor Ciao Conosce qualcuno Per farci firmare Un notaio Per il trasferimento della casa? Ma so che lui si occupa anche di tutte le pratiche Da quanto Io 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 dentro il mio magazzino A fare le bule Senzino per pratiche Eh Va bene Andiamo a firmare lì Registriamo la macchina Registriamo la casa Gli dà le chiavi Bene Mi piace tanto quella macchina Sono Sono contento Andiamo al magazzino da lei Signor Signor Ciao Eh sì Nella magazzino Così lo puoi archivare E mandarle via internet E lecce E lecce E lecce Grazie.